Sì, molto brevemente, innanzitutto vi do il benvenuto e credo che sia di particolare significato che questa presentazione avvenga in una sede istituzionale come quella di Regione Lombardia. Perché veniva detto poc'anzi, veniamo da una stagione dove le istituzioni hanno faticato parecchio a rendersi conto di cosa era successo sul loro territorio, però siamo, oserei dire, nella fase dello studio, della conoscenza, dell'approfondimento, mi auguro al più presto di essere capaci di iniziare la fase della reazione, della concretezza, della risposta. Però tutto questo passa, secondo me, da due momenti. Appunto, l'approccio scientifico. Un tema come la mafia non può essere affrontato con superficialità, per slogan, trasformandolo in una convenistica di maniera un tema come questo. Ha bisogno sempre di più di un lavoro scientifico, analitico, di conoscenza. In questo non posso che ringraziare il professor della Chiesa, il mondo dell'università, i tanti ragazzi che ha formato, che si stanno formando con lui, che sono diventati un patrimonio prezioso per la commissione che presiedo, per conoscere, approfondire e, se volete, anche imparare come si fa. Perché le istituzioni non devono, secondo me, vergognarsi di ascoltare e vedere come si fa quando altri lo sanno fare meglio e l'hanno fatto prima di loro senza nessun problema. Non è un venir meno al ruolo, ma aprire il ruolo delle istituzioni e dei cittadini in un interscambio, un rapporto anche molto virtuoso che dovrebbe caratterizzare sempre la vita politica e sociale. Il secondo aspetto che credo sia estremamente importante è che attività come queste, che hanno una valenza incredibile, perché per la prima volta, mi viene da dire, si dimostra di essere un passo in avanti rispetto al fenomeno che abbiamo di fronte. Dimostriamo alla mafia che siamo all'altezza, perché la conosciamo, la monitoriamo, la stigmatizziamo, facciamo conoscere ai cittadini cosa succede. Sono le cose che bisogna far conoscere ai cittadini. Certo, magari mi piacerebbe vederle presentate in prima, seconda o terza serata, non lo so, nella TV pubblica, invece che assistere a spettacoli veramente in vere condi come quello che nei giorni scorsi abbiamo visto. Ma questa è la situazione che viviamo, rimediamo dove possiamo e facciamolo con la giusta importanza, con la giusta sette legnatura. Mi fermo proprio qui, perché sono qua anch'io per vedere il lavoro di Per Paolo, che poi ci illustrerà, per Paolo e tutto il suo staff, ovviamente, e non per altro. Ringraziandovi ancora di aver accettato l'invito ad ospitare appunto questa presentazione, ma soprattutto per dirvi ancora una volta, ovviamente non finisce qui, perché dovremo capire come sviluppare questo rapporto con la Regione, come farlo diventare, anche per quanto ci riguarda, uno strumento da utilizzare e da far utilizzare a tutti i soggetti che anche in Lombardia credo che finalmente abbiano voglia di fare del contrasto alla mafia e alla corruzione una delle priorità delle politiche e delle istituzioni. Grazie ancora.